Siamo Alessandro, Alessandro Babboa Eccolo No, al freddo, si fa freddo Al freddo E' un film, Blue Sky, gli uccellini Uccellini di Blue Sky Scratto Qua stanno i guardiani dello zoo? Cos'è? I guardiani dello zoo Stanno facendo i lavori Stanno gestando tutto lo zoo Chiama Mario Rumbo Chiama Mario Il cognome? Rumbo Entra in rettilaggio Chiama un frango Chiama frango Pomari Chiama Frango Che cos'è? Frango 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 Va bene, basta Basta così Va bene E questo è il docetolino Cos'è? Cos'è? Ma è che c'è? Ho bidone Questo è veneno Premo È veneno Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Cos'è? È veneno Beleno Non è veneno Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Belenoso Ehi beleno Ehi beleno No Larry Ehi beleno Ehi beleno Ehi beleno Hai visto beleno Che cos'hai? Ehi beleno Kheji di incheve negero Ehi khe Ehi zungur Leve negero Ehi beleno Ehi beleno Ehi beleno Mario Mario Chiama Mario Rumbo Mario Rumbo Chiama? Mario Rumbo Senti? Mario Rumbo Chiama Senti? 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 Leono Senti? 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 P demi Senti? Senti? Sei cosa Grazie a tutti